Portiamo l'affettuoso abbraccio dell'intera comunità marchigiana alle popolazioni duramente colpite dall'alluvione. E mio desiderio è dovere ringraziare ed elogiare quanti si sono prodigati in questi giorni con sacrificio, senso di solidarietà e abnegazione. Lo ha detto il presidente Dino Latini nel corso della seduta del Consiglio regionale, la prima dopo la tragedia che ha colpito le Marche lo scorso 15 settembre. Alla richiesta del minuto di silenzio ha fatto da sfondo il gonfalone ufficiale della regione, l'istatua lutto. Ricordando anche i numerosi messaggi pervenuti dai consigli regionali di altre regioni, il presidente ha evidenziato che quando un territorio è martoriato da una simile catastrofe, la solidarietà non è un atteggiamento esteriore ma la condizione stessa dell'essere comunità. Ma non solo, Cordoglio, nell'intervento di Latini. Una volta esaurita la fase dell'emergenza, aggiunto, le istituzioni devono farsi carico di iniziative per la salvaguardia degli assetti idrogeologici. È necessario un impegno condiviso per attuarli concretamente. Non tutte le sciagure possono essere evitate, ma il territorio, a concluso, va rispettato e tutelato. Dopo l'intervento di Latini, ad esprimere Cordoglio e a ringraziare tutte le istituzioni per il contributo fattivo alla gestione della prima emergenza, è stato il governatore Francesco Acquaroli. Su sua proposta, l'11 ottobre, si terrà una seduta straordinaria e monotematica del Consiglio regionale. Intanto, questa mattina, prima della seduta assembleare, sono stati ricevuti gli atleti del centro ipico alla Bisciugola di Cagli. Il maneggio, fucina, di tanti giovani campioni di sport equestre, tanto da far guadagnare le marche, il titolo di migliore regione d'Italia, è stato gravemente danneggiato dall'alluvione. L'assemblea, affermato Latini, evidenza i meriti di coloro che in ogni campo esaltano i nostri valori. Questa disciplina richiede un grande impegno, avvicina la natura, agli animali, all'ambiente e quindi al nostro futuro. Grazie per essere un esempio.